In merito al servizio di rifiuti interviene oggi con una sua nota stampa l'ex sindaco attuale consigliere comunale Lillo Firetto affermando come un servizio di raccolta di rifiuti misto e non più porta a porta. Questo è quel che annuncia l'amministrazione comunale di Agrigento sulla stampa. Siccome continua Firetto non sono riusciti a proseguire sulla strada che avevamo tracciato ora si sono messi in testa di tornare indietro di ben 5 anni. Quindi le sane abitudini dei cittadini virtuosi di Fontanelle prima e del resto della città poi che sono la stragrande maggioranza che ha consentito di portare Agrigento al 73% di raccolta differenziata con i connessi effettivi e potenziali benefici economici sarebbe tempo perso. Gli obblighi, continua l'ex sindaco, di adeguamento alle altre città italiane e europee non contano. Le strategie per recuperare 20 anni di ritardo contano niente. Lancette dell'orologio indietro. Si cambia rotta anche in questo senso. Chiedersi che razza di conseguenza avremo da simili scelte. Firetto continua e concludendo sporcizia ancora più devastante e ulteriori costi nel breve e medio termine.